Riusciamo a raggiungere 1800 likes per il ritorno della Food Champions? Attenzione! Su questo canale si utilizza un linguaggio esplicito e comune e si propone un tipo di comicità irreverente in cui spesso vengono usate parolacce e volgarità in genere. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti vi consiglio di non visionarne i contenuti. Ma che cazzo si troverò a dire, more? A sbregati aiii! Quaiii, ma seiii! E oggi siamo su FIFA Ultimate Team come al solito su FIFA. Non roppetemi i coglioni. Io faccio ciò che mi diverte, ciò che mi piace. E in questo periodo mi piace FIFA e faccio FIFA. Se mi piace For Honor, faccio For Honor. Ma siccome mi ha rotto i coglioni e io quando voglio giocare sì, mi voglio... No, non mi voglio incazzare. Mi incazzo. Però non voglio annoiarmi. Voglio un... un cinin divertirmi. Quindi porto FIFA e non porto For Honor. Porca puttana! Siamo in finale! Siamo arrivati in finale, Pioi. Con questa squadra. Ah, ho messo gli allenamenti perché voglio vincere. voglio vincere. Senza sei, senza ma. Voglio la vittoria quest'oggi. Non me ne frega come. Non me ne frega in che modo. Ho messo gli allenamenti al portiere. Ho messo gli allenamenti agli argentoni. Ho messo la velocità a Arnautovic. Però voglio... Ah, 98 di velocità, Pioi. 98 di velocità. Non mi rompete i coglioni. Ho voglia di vincere. Questo a Fosumensa. Abbiamo in attacco il nostro Romelu Lukaku. Sette partite, dieci gol. Una autentica macchina da combattimento. E' un tank, è un tank, Pioi. Abbiamo Son. Questa carta. Questo giocatore. Io non so da dove cazzo l'abbiano cagato. Che aveva 78 all'inizio di FIFA. 78. Adesso ha 89. Con l'informa. Ultimo. È a 90. Ha un tiro, ragazzi. Ha un tiro. Che disgustez. Fa dei gol da fuori. Destro, sinistro. Non conta. 5 stelle in piede debole. Questo tiradi. È ambidestro. Tirado come cazzo gli pare. Da dove cazzo gli pare. Entra. Mai. Acquisto. Fu più giusto. Oglielmo. Abbiamo. C'è troppo che è composto dai soliti. No. Ho tolto la parte tedesca. E ho messo dentro il nostro Iaia Touré. Che non si sta comportando male. Da. Den. Oglielmo. Denaghea. Denaghea. Con gli allenamenti. Io mi dico che sia il giocatore più forte. È il giocatore più forte. Di FIFA. In assoluto. In assoluto, Fiori. Adesso. Io andrei a giocare. Ma prima. Ma prima. Signor Magi. Signor Magi di Montecchio. Dobbiamo mettere in carica la GoPro. Perché se no. Sono cazzi. Sono ai meriti cazzi. Adesso qua scriviamo. Intro. Ci si becca tra poco. Anzi tra mezz'oretta. Ce l'ho ragazzi. Ce l'ho. Non mi dite di no. Non mi dite di no. Siamo qui tornati. Ho caricato una decina di minuti. Spero. Che per quei 15-20 minuti di merda. Mi registri. Una partita dobbiamo fare. È la finale. Dovevamo vincere. Assolutamente quella carta. Perché non ho assolutamente intenzione. Ho detto due volte assolutamente. Sti cazzi. Non ho intenzione di ripetere il FUT Champions. Nove tentativi rimasti. Guardate. 4-2. 4-2. E 5-3. Andiamo a vedere la finale. Cosa è il serbo per noi. Pronto. Pronto. Sono pronto. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Siete pronti. Dai. Su. Dai. 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 Non so. Bestia. Tacica un portiere di merda. Marco Sau con l'allenamento. Tutti con l'allenamento. Tutti con l'allenamento. Insigno 87. Marco Sau. Salah. Amsic in forma. Birthday card. Quella speciale di El Sharawi. Nainggolan in forma. La difesa mi sembrava il portiere del Pescara. Che non so il nome. Lorenzi Insignia. Stavo dicendo. Chiellini. Di sicuro l'ho visto. Alexandro pure. E... Raja. 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 Il ninja. Il ninja. Approciato. Da show. E' fermato. Fioi. Mi sto cagando in mano. Perché io queste cose mi agito. Mi viene l'ansietta. Come direbbe il buon Ronnao. E' tua. E' tua. Arbitro. Sì. 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 No. No. Ma che cazzo sono queste carambole di merda. Fosumensan. Per... Omninson. 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 No. Aaaaaa. Omninson di merda. Passala. Passala bene. Passala sui piedi. Ma che cazzo l'ha passata. Ma accadde. Ma vai a fanculo. Va. A Saudi. Merda. A Bongolov. Eh sì. Vabbè. Un po' più sul portiere. Oh. Oh. Passala lì. Bravo. Fosumensan. Fosumensan. Angolo. L'ha tirata da Dio allora. Merda. Dai Omninson. Oh. Oh. No. No. Che cazzo. Ma che cazzo di ricosa. Ok. Fioril. Aleksandro. Per Marekamsik. Torni dietro sui Sharawi. Intercetta. Fosumensan. Fosumensan. Eh sì. Fosumensan. Tira. Tira. Oh. Min. Son. Così. 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 Penetra. Penetra. Puttana la vacca. Se penetra. Oh. Min. Son. Of a bitch. Vorrei anche aggiungere. Una grandissima. Cazzo di. Tega. Lì. Nell'angolino. Fiorillo. Non può nulla. Oh. Min. Son. No. No. Che questo è la bagga. Via. Fuori dalle bale. Il kickoff glitch. Yay sports. Mia cara. È una roba da togliere. Che i giocatori sono rincoglioniti. Quando c'è il calcio d'inizio. Oppure. Palla al centro. Comunque. Cantè. Per Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. La finta di Arna Arnautovic. R1 X. Ma perché? Ma cos'è sto stop? Attenzione. Ancora. Non tirano. Non tirano. Fuori gioco. Ma sei stronzo arbitro. Ok. Basta. Piano. Adesso. Con carne. Il sangue è freddo. Deve la puoi passare bene. Bello. Bello Luca. Bello Luca. Bello Luca. Bello Luca. No. Menù. Luca. Luca. E qua si tiene il difensore. Non so chi sia. Guardate. 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 Bam. Non lo può spostare. Non lo può spostare. È un bacigno. È un masso. Siamo in finale Pioi. E siamo 2 a 0. Al 42esimo. Manteniamola. Manteniamola. Lo vede. C'è Omninson. Omninson. La velocità di Omninson. Lo tiene lì. Lo tiene lì. Omninson. Ancora. Il passaggio al centro non va. Allora. Mettiamo a battere Omninson. Che ha delle statistiche non da poco. Sul primo palo. Oddio. Oddio. Ok. Piano. Piano. R1X. No. Che sfiga impetuosa. La stavo per mettere dentro Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Fioi. Inaspettato. Inaspettato. 87 in generale. Costa 70.000 crediti. Purtroppo in questa partita non è bello attivo però. Ma ha fatto una tripletta la scorsa partita Fioi. Non da poco. Non indifferente. Eccolo. Arna Arnautovic. Oh cazzo. Palle incredibili. Oh. Fasumensà. Fasumensà. Per Lukaku. La gira dietro. Malissimo tra l'altro. Per Kanté. Ancora Arnautovic. Kanté. Son. Il tiro a giro. Mali. Ancora Fasumensà. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Questo è un 70 in porta. Questo ha un 70 in porta. Paris. Eh no ragazzo. No. Ma che cazzo di passaggio è? Daenerys Targaryen. One man army. One man. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee cazzo. Ma cosa? Che cazzo di passaggio è? Daenerys Targaryen. Ma cazzo cazzo cazzo. Mohamed Salah viene fermato. Incredibile. Ancora Fasumensà. Via 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 via. Via sta. Ma 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 ma. Scatta. 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 Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna Arnautovic. Arna. Orca la mano. E la passa lì. E la passa lì. Perché non posso te. Corri. 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 Ma vai in figa di tomare. Ma Marco Arnautovic. Lo vuole. Cazzo. Romelu. Lo vede. Arna Arnautovic. Arna. Dai. Arna hai 98 di velocità. Gli ho messo l'allenamento della velocità. Non corre. Non corre. Bella. Fuori gioco. No. Non è fuori gioco. Corri. 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 Romelu. 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 3 a 0. 3 a 0. E ci portiamo a casa sto Pulisic. E ci portiamo a casa sto Pulisic. Blu come la bottiglia. Blu come la bottiglia. Guarda qua. Madonna che passaggio ragazzi. Madonna che passaggio ragazzi. È di esterno. Glielo metti nell'angolino basso. Fiorillo. Ci si becca. Ci si becca. Palla al centro. I miei sono rincoglioniti al massimo. Io voglio il clean sheet. Voglio il clean sheet. Vuol dire non subire gol. Fiori. Clean sheet. Sarebbe il lenzuolo pulito. Proprio letteralmente tradotto. Arna Arnautovic. Di tacco. Di tacco. Deve darla di tacco. Fiori. Prima cosa. Siamo fottutamente qualificati per la full champions ma dubito che andrò a giocarla perché non voglio avere infatti. Seconda cosa. Abbiamo sbloccato. Puu. Pulisic. FC Inter. Centro Alessandro. Mi dispiace vecchio ma ti sei trovato il masseo bello main. Che ha spaccato i puli a tutti. E mai la squadra. Non me ne frega un cazzo. Guardate qua che carta Christian Pulisic del 98. Fiori. Ha 4 anni in meno di mesto qua. 94 di velocità. 85 tiro. 88 passaggio. 89 dribbling. E 73 di forza. Di forza. Di fisico in generale. Direi che Fiori. Eh. Eh. Per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Se volete. Iscrivetevi. CONDIVIDETE. Che è non ci becchiamo. Alla prossima. Ignorantata. Adesso scopro che non ho registrato l'audio. Mi taglio le palle.